Oggi andiamo a vedere qualcosa di unico, ho preparato per voi un video sulla Mikasa Che nave è? È l'unica corazzata all'interno del gioco che si trova a livello 2 Nave giapponese ed è anche premium, d'accordo? Quindi andremo a vedere questo piccolo gioiellino a livello 2, che cosa può fare? Di più, che matchmaking andremo ad incontrare? Perché dobbiamo dirci anche questo Partiamo dall'inizio, ho messo giusto qualche bonus per guadagnare qualcosina Distribuzione corazzatura in realtà non vi interessa più di tanto Perché quello che vi deve interessare è il fatto che la nave abbia, vabbè, 31.200 punti Protezione siluro, diluzione, danno 10% Artiglieria, i cannoni principali sono da 305 con una penetrazione di 51 con le HE Danno 5.100, danno a P 7.700, distanza 11.8 Ricarica 30 secondi Ma la cosa fondamentale saranno le armi secondarie Che sarete letteralmente pieni di armi secondarie da 76, penetrazione 13 Incendio 6%, portata massima a 3.8 km Poi abbiamo dei 152, è tutto vero, sto leggendo Capacità di perforazione 25, probabilità incendio 11% citata a 3.8 Manovrabilità, siamo molto lenti, 19 nodi E poi verremo spottati, vabbè, a 11.2 Cosa possiamo mettere? Abbiamo solo una slot, quindi andiamo a mettere l'armamento ausiliare modificato 1 Per preservare le nostre secondarie Poi tutte le bandiere da combattimento Capitano speciale Yamamoto Soroku cambiato solo per questo gameplay Quindi mettiamo qualcosina per quanto riguarda Specialista delle riparazioni d'emergenza Esperto di demolizioni e rotazione migliorata delle torrette principali Tutto per quanto riguarda le secondarie scariche di adrenalina Nozioni di base di sopravvivenza E poi esperto di prevenzione incendi La mimetica è una mimetica standard della nostra corazzata mitica giapponese E poi le immancabili Jolly Rogers Direi che siamo pronti E andiamo a vedere un gameplay che ho preparato con questa corazzata A livello 2 Via Indovinate cos'è successo? Sono in random e ci sono solo bot Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici E con me sono dodici Quindi il matchmaking è rispettato da questo punto di vista Dodici navi presenti in mappa Queste sono le occasioni in cui si potrebbe Si potrebbe fare dodici kill Ovviamente al netto di tutto non è un qualcosa di facile Perché i bot stessi andranno ad arrivare prima di voi E quindi insomma sarà un pochino complicato fare questa cosa qua Dovete letteralmente sparare l'ultimo colpo Se questo si fa vedere sto bot No rimane Poi la mia velocità ripeto Non è che Non è manco detto che lo vada a prendere Ma non glieli levo 4.000 Ma no L'ho pure mancato Io veramente Ripeto Il video era partito perché volevo farvi vedere sta nave Insomma contro anche persone vere tra virgolette Però adesso prende un'altra piega il gameplay Nel senso quante kill riusciamo a fare Mi viene da ridere Ma dove vanno i colpi? Dove vanno i colpi? E qua rischiamo di essere presi di mira da Siamo in mezzo a due cacciatorpinieri tra l'altro Il che è fantastico Yeah No Che mi ramma? Serio? Oi Via Yes Mi viene troppo da ridere Mi ho fatto due kill già Già insomma Allora Ma cosa deve succedere? Poi ripeto A fini del tutto statistici Perché poi quando andate nel profilo Random Quante kill hai fatto? 10 Dove l'hai fatta? In random Le ho fatte in random Quindi vale da quel punto di vista Però ovviamente Livello 2 Insomma si commenta da solo Però ecco No Levati Levati Allora cerchiamo di concentrarci perché Allora andiamo su questo Non sottovalutiamo però la situa Ok? Non mi va di rischiare Abbiamo un incendio a bordo Andiamo su questo La torretta è un po' lenta a girare Giustamente No 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 Non mi lancio le siluri Vai fammi da scudo Bravo grazie Levati 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 Lo devo prendere io Mia Sì E so No aspetta A sinistra A sinistra Vai a sinistra Ci facciamo quell'altro Ce ne sono due che posso prendere Siamo in random Siamo in random Siamo in random È una random legalizzata Sì Un'altra Mi ven troppo da ridere No Non lo ramare Non lo ramare Non lo ramare Non fate voi le kill Ma porca miseria Mia Sì Kraken Sì Doppio colpo Ora spariamo Ogni 19 secondi Ma Ho capito Quale il problema Sono stato sfortunato Perché i bot Purtroppo hanno fatto Un po' di kill E quindi Tecnicamente Non Cioè Sarà difficile Prendermi queste Quattro Tutto a sinistra No No Non lo torpare Ne ho fatto anche confederato Vediamo se riesco a prendere quella No 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 Per favore Non lo ramare Ma per Che miseria Stanno cappando la base Tra l'altro Tra virgolette Allora Ogni tanto Noi siamo ancora Tecnicamente Dovremmo recuperare vita Ok Tecnicamente Molto tecnicamente Non ce la faccio Oh E' mio Incendio E' 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 Non posso Commentare Mi risulta difficile Commentare una cosa Del già Abbiamo fatto però 72.000 danni Cioè voglio dire Non 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 E' E' Verrà considerato In random Signori Quindi Questa partita Ok Queste statistiche Verranno aggiunte Ai calcoli Della random Del mio profilo random D'accordo D'accordo Avete ancora Dubbi Se avere Una Mikasa Oppure No Nel vostro Porto Avete ancora Dubbi Io sto Sparando Ogni 19.6 Vabbè Abbiamo Recuperato Vita E quindi Scarica Di Adrenalina Funziona Di meno Però Ripeto Questo Matchmaking Fantastico Se volete Fare Kill E quant'altro Perché ci sono Solo Esclusivamente Botto Cioè Non potete Essere In errore D'accordo Ora Devo provare A stillare L'ultimo L'ultima nave Vediamo se ce la facciamo Fare 8 Vedo dei siluri Che arrivano Non dirmi che te li prendi Non dirmi che esplodi Soprattutto No 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 Eh ma Dai Ma veramente Ti vai Viene rammato Ma non ci credo 7 kill Abbiamo fatto Confederato Due doppi colpi 4 colpi L'esperto Del combattimento Ravvicinato Un kraken E anche Un grosso calibro Secondo me Sono arrivato Primo Potremmo aver fatto Anche Mille Di base Mille di base 1097 Di base Rapporto Dettagliato E poi Crediti Levate le varie spese Portiamo a casa 260.000 Crediti Che volete Di più Considerate Una cosa Che è vero Da un lato Andrete a fare Molte kill Ancora di più Se Troverete Un matchmaking Del genere Però Purtroppo Guadagnerete Poco esperienza Quindi la vostra Esperienza Media Base Ok Calerà Di molto Rispetto a quella Che avete Ora io non so Quanto avete Di esperienza Base Però io Personalmente Ho 2000 Di esperienza Base Quindi In ogni partita Che faccio In random Grosso modo Ok Faccio 2000 Di media Il problema È che Se io dovessi giocare 100 partite Con questa nave Sì ok Le vado a vincere tutte Quindi mi aumenta Il winrate Però di contro Mi va a diminuire L'esperienza media E il danno medio Potrebbe anche Risentirne D'accordo Quindi dovete Un attimo Valutare Questo aspetto Qui La nave Tendenzialmente Ci dice Una cosa Ci trasmette Proprio Una cosa La seguente Dimenticate Tutto quello Che sapete Di World of Warships Ok Resettate Tutto Buttate La nave In avanti E fate In modo Che le armi Secondarie Vadano a Lavorare Per voi Cioè voi Non dovete Fare Assolutamente Nulla Se non Appunto Buttarvi In misca E cercare Quante più Nave Possibili Da farmare E poi Ovviamente Sparerete Con le armi Principali Quando ce ne Sarà L'occasione Però Molto importante Far funzionare Le armi Secondarie Una nave A modo suo Molto particolare Non fatevi Ingannare La livello Perché Ripeto Se uno Volesse Appunto Cercare Delle vittorie Facili Crediti Facili E quant'altro La mikasa Potrebbe essere Una scelta Adeguata A livello 2 Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per il like Il commento E le visualizzazioni Noi come sempre Ci vediamo Con un prossimo Gameplay Ciao Ciao